Fare la spesa durante un periodo difficile, che sia una situazione globale come la pandemia, una situazione personale, come le difficoltà motorie o la mancanza di tempo, può essere un'attività molto stressante. Per questo noi vorremmo dare a tutti la possibilità di farla comodamente. La pandemia ha infatizzato questa situazione non solo aggiungendo a un momento della spesa un ulteriore livello di stress, dato dal timore del contagio, ma anche incidendo negativamente sulla percezione del tempo, facendole sentire perse nei momenti libri del quale dispongono, prive di stimoli rispetto alle situazioni prepandemiche. Il tempo impiegato per ricarsi a fare la spesa toglie tempo allo svolgimento di altre attività di svago e noi vorremmo cambiare questo meccanismo. Per questo motivo il nostro servizio non solo punta a permettere ai fruttori un acquisto sicuro e affidabile di geni alimentari, ma anche di sentirsi stimolati da esso. A chi ci riferiamo? In seguito alla pandemia sono emerse diverse tipologie di consumer profile, tra il quale il conduttore, una persona eclettica, sempre ricerca nuovi stimoli e sfide. Per questo motivo vogliamo proporre un metodo alternativo per fare la spesa, che non sia solo uno stimolo che permette di muoversi in un campo di gioco diverso, ma che offre nuovi spunti nella sfera esperienziale, permettendo allo stesso tempo di fare la spesa in totale sicurezza, dovunque. Il microcosmo delle persone intervistate abbiamo riconosciuto tra i diversi appeggiamenti nel fare la spesa e nel come questa attività si relazioni con la loro associazione del tempo. Abbiamo individuato il pensionato in cerca di stimoli, il lavoratore iperimpegnato e l'ambientalista. Il primo è una persona che non lavorando ha molto tempo libero, ha la ricerca di stimoli ma contemporaneamente perso nella grande quantità di tempo di cui dispone. Vorrebbe per questo entrare in contatto con una realtà che gli permette di sentirsi stimolato. In relazione ad un periodo pandemico è anche il più timoroso di un possibile contagio. Il secondo, il lavoratore iperimpegnato, è una persona che non riesce a coltivare le sue passioni, quanto vorrebbe, a causa degli orari lavorativi e per il quale la spesa è un momento particolarmente stressante per le tempistiche dilatate, specialmente durante la pandemia. L'ambientalista invece è una persona tendenzialmente giovane, uno studente, un lavoratore, con una particolare sensibilità per la situazione ambientale che vorrebbe mangiare in maniera sana e più pratica possibile. Anche per lui le tempistiche sono fondamentali. Contatto non si propone solo come realtà online dove poter acquistare prodotti freschi, ma anche come strumento per poter riscoprire realtà locali, sinonimo di qualità e sostenibilità ambientale. Il servizio si differenzia dai competitor per la possibilità di personalizzare il più possibile la selezione dei prodotti, emulando la spesa fisica. L'utente potrà infatti indicare le proprie preferenze sullo stato dei prodotti, dal livello di maturazione della frutta alla percentuale di grasso in un taglio di carne. Non solo, per ogni prodotto l'utente sarà orientato nell'acquisto da diversi contenuti multimediali, come foto e video a descrizione del prodotto stesso e dell'attività che lo produce, oltre ad un'ampia quantità di informazioni riguardo dati di raccolta, confezionamento e scadenza, e si potrà anche basare sulle recensioni. Ad ogni acquisto gli verrà proposto un prodotto tipico e particolare della zona, lanciandogli la sfida di utilizzare la propria inventiva per crearci un nuovo piatto e condividerlo con altri partecipanti alla community, ottenendo così sconti e prodotti in omaggio ed ispirando altri utenti. Per capire meglio proponiamo l'esempio di Federico, un genitore single e libero professionista che lavora nel settore della grafica pubblicitaria. Trascorre gran parte della sua giornata lavoro e il tempo restante lo dedica ai figli, trovandosi sempre senza tempo per recarsi al supermercato o dedicarsi ai suoi hobby. Durante un suo momento di pausa, scrollando su Instagram, vede la pubblicità di una nuova applicazione, Contatto. L'applicazione si propone di acquistare prodotti alimentari freschi e di qualità, con l'obiettivo di far sentire l'utente il più possibile in sintonia con l'acquisto, attraverso la personalizzazione della scelta dei prodotti, stimolandolo anche con nuove proposte. Federico decide quindi di scaricare l'applicazione tramite l'App Store. Una volta aperta, scopre le diverse attività locali e comincia la selezione dei prodotti che seguono la stagionalità, indicando la propria personalizzazione. Successivamente, Contatto, gli propone il marrone di Combuy, lanciandogli la sfida di realizzare un piatto con questo prodotto e condividere il processo con altri utenti. Dopo averla accettata, inserisce la sua preferenza sull'orario di consegna. Precisa e puntuale, la spesa di Federico arriva a casa, dove paga e successivamente, incuriosito, comincia a cucinare, utilizzando il prodotto della sfida. Soddisfatto di questa esperienza, condivide il proprio risultato su Instagram e sulla piattaforma Contatto, così da fornire maggiori informazioni sul prodotto agli utenti futuri. Abbiamo capito come funziona per l'utente, ma come funziona dietro le quinte? Per rispondere, abbiamo previsto un punto di raccolta di contatto in ogni provincia, che fungerà da magazzino di smistamento per comporre l'ordine finale dell'utente. Ci siamo immaginati di avviare l'attività partendo dal contesto Veneto, per poi eventualmente espanderla. Una volta che l'utente conferma l'ordine, Contatto comunicherà con le parti dell'acquisto ai rispettivi produttori, che provvederanno alla preparazione dei prodotti. Successivamente, l'attività locale comunicherà a Contatto che l'ordine è pronto per essere raccolto dai fattorini. Ogni dipendente ha associato a sé una singola attività locale, così da potersi dedicare esclusivamente alla sua raccolta, proprio per garantire all'utente che il tempo di consegna sia il più veloce possibile. Una volta che l'ordine totale è arrivato al punto di raccolta, si inizia la fase dello smistamento, dove i dipendenti di contatto provvederanno a comporre la spesa finale. Infine, l'ordine viene caricato nel furgone di contatto, che provvederà a recapitare in orario presto l'indirizzo scelto dell'utente. Perché scegliere Contatto? Contatto è parte di un mercato florido e affollato, ma comunque riesce a distinguersi per due tratti fondamentali, la personalizzazione e il coinvolgimento. Il piano strategico ne chiarisce il posizionamento. Nel mercato, infatti, il nostro servizio mira alla comodità, alla praticità, al rapporto utente-cibo e alla fiducia durante l'acquisto di un alimentare, attraverso un alto livello di comunicazione dei prodotti, permettendo così ai nostri utenti di poter acquistare serenamente. Il servizio, fornendo prodotti freschi provenienti da realtà locali e la consegna a domicilio, si posiziona una fascia di prezzo medio-alta rispetto a quella dei classici supermercati, proprio perché la qualità e la provenienza sono due fattori fondamentali. Contatto è un nuovo modo di approcciarsi alla spesa, una modalità sicura, comoda e veloce. Vogliamo che il nostro utente non percepisca il momento della spesa come ulteriore fattore di stress, ma farlo sentire protetto e nel fare ciò vogliamo permettergli di fare la spesa che vuole lui, non quella che vogliamo noi. C'è di più, il nostro cliente ama le sfide e ha cura per il pianeta, per questo ci impegniamo a proporgli continuamente stimoli e prodotti diversi, come l'utilizzo di cibi stagionali a scelta. Scegli tu come fare la spesa online, falla con attenzione, con sensibilità, contatto.